Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti o bentornati nel mio canale In questo video volevo farvi appunto vedere come ho realizzato il mio primissimo edito con Videostar Fatto proprio adesso E niente, spero che vi dia una buona impressione perché è proprio il mio primissimo E noi ci vediamo in un prossimo video, ciao! Ciao a tutti 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 Ciao a tutti